Tanti eventi in un unico grande evento, così come preannunciato dallo slogan la sedicesima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, appena conclusa si appesta un motravalico ai confini della storia delle civiltà antiche. Lusing era il bilancio delle quattro giornate, circa 10.000 visitatori, 2.500 gli studenti di 40 scuole, 250 seller e workshop, 150 espositori, provenienti da 20 paesi esteri, tra cui per la prima volta dalla Cina e dal Bahrain. Ogni anno la Borsa promuove l'incontro, il confronto e la cooperazione tra i popoli attraverso la partecipazione e lo scambio di esperienze. Dopo Egitto, Marocco, Tunisia, Siria, Francia, Algeria, Grecia, Libia, Perù, Portogallo, Cambogia, Turchia, Armenia, ospite ufficiale di questa edizione è stato il Venezuela. Nuovi scenari si sono aperti in prossimità del Tempio di Cerere, nel Museo Archeologico Nazionale e nella Basilica Pallocristiana, che hanno fatto da fondale alla mostra e alle sezioni speciali, tra cui lo spettacolare Archeo Virtual, con il suo bouquet di ricostruzioni tridimensionali in 3D. La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si conferma un evento internazionale unico nel suo genere, sede del più grande salone espositivo al mondo del patrimonio archeologico e della prima mostra internazionale di tecnologie interattive e virtuali, luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo e ai beni culturali, oltre che occasione di scambio tra gli addetti ai lavori, tra gli operatori, i viaggiatori e gli appassionati delle civiltà del passato. Il Salento rappresenta Pestum con Ostuni, Ugento, Massafra e gli itinerari storico-archeologici messapici di viaggi nella terra di mezzo nell'ambito dello stand Archeo Puglia, che ha suscitato interesse soprattutto tra i buyers internazionati a scoprire tesori della terra tra i due mari e le cosiddette civiltà minori. La Puglia gode di una posizione privilegiata come meta turistica a livello internazionale. Siusi Bledi e Patrizio Roversi, nelle vesti di turisti per caso, hanno citato alle loro viaggi il tacco della Puglia, che in età antica si chiamava Messapia, come identità straordinaria da riportare alla luce dalle ceneri della storia.